Buongiorno ragazzi, questa è un'espressione, una delle tante che vi avevo dato all'inizio inizio, mi pare il 9 marzo, ho deciso di proporla perché qualcuno di voi mi aveva detto che non tornava il risultato che ci è segnato sull'espressione, in effetti è così, quindi è un modo comunque per fare esercizio, vediamo insieme i vari passaggi, primo abbiamo una parentesi tonda, una parentesi quadra, una potenza all'interno della parentesi quadra e poi di nuovo una parentesi quadra, quindi la regola che conoscete benissimo è quella di risolvere prima ciò che si trova dentro le parentesi tonde, quindi queste parti che sto sottolineando avranno la priorità. Passaggio successivo, minimo comune multiplo, qui mettiamo il 7, viene 21 meno 10, qua mettiamo 2, qua mettiamo 3, qui mettiamo 140, perché? Perché vado a scomporre i due numeri, 20, 5 per 2 alla seconda e 35, 7 per 5, quindi il minimo comune multiplo è 35 per 4, cioè 140. Poi ricopio questa parte e trovo l'ultima parentesi. vado avanti, vedete in questo caso ho distribuito poi la potenza sia nel numeratore che al denominatore, quindi 2 alla seconda diventa 4, 3 alla seconda diventa 9. Vado a ricopiare tutto il resto, posso fare delle semplificazioni, 4 con il 140, posso fare diviso 2, viene 2 e 70, poi ho semplificato il 9 con il 45, quindi viene 5 e 1, poi ho semplificato questo 70 con il 5, quindi viene 1 e 14, questo 14 con il 2 viene 1 e 7. Comunque voi facciate questa semplificazione e il risultato finale deve venire un settimo, ok? Quindi tutta questa semplificazione nel momento in cui voi la facciate corretta, darà come risultato un settimo e tutto il resto semplicissimo, si calcola, qua abbiamo 11 terzi meno 2 terzi, facilissimo, viene 9 terzi, lo ricopio. Vedete che quando trovo un numero all'interno della frazione, alla fine posso togliere la frazione, quindi queste parentesi, posso togliere le potenze, scusate, queste parentesi le tolgo e anche queste due parentesi le tolgo. Quindi la nostra espressione è molto più pulita, molto più semplice, quindi abbiamo 11 settimi diviso, ci manca da fare l'ultimo minimo, un comune multiplo, quindi 2 per 7 di nuovo 14, 14 diviso 2 fa 7 per 3, 21, meno, 14 diviso 7 fa 2 per 1, 2 diviso, copiamo l'ultimo pezzo, sono andata di qua, 11 settimi diviso, 19 quattordicesimi diviso 9 terzi, avrei potuto già semplificare qui 9 terzi, non l'ho fatto, per fare un passaggio alla volta, 11 settimi per 14 diciannovesimi, semplifico in diagonale, quindi viene 14 diviso 7, 2, 7 diviso 7, 1, quindi 22 diciannovesimi per ribalto, 3 noni, semplifico qui 1 con il 3, 22 per 1 fa 22, 19 per 3 fa 57, quindi questo è il risultato che ho trovato io, che ho trovato anche una vostra compagna, è un modo comunque per fare un po' di ripasso. Ciao a tutti, a presto!